Dopo aver affrontato la figura e l'opera di quello che si considera a buon titolo il caposcuola della tradizione pittorica sienese, mi riferisco a Duccio di Buoninsegna, si potrà a questo punto allargare il nostro ragionamento alle caratteristiche salienti dell'intero contesto cittadino, quindi di Siena. La lettura che vede Siena e Firenze è completamente contrapposte, l'una cioè Siena nel nome dell'eleganza, della grazia decorativa un po' superficiale, della ricchezza delle forme, delle linee sinuose, calligrafiche, della ricchezza dei materiali e l'altra Firenze all'opposto impegnata sulla scorta dell'insegnamento di Giotto in una ricerca di verità spaziale, di verità volumetrica, compositiva e sintetica, è di certo troppo semplicistica. In questa slide io vi ripropongo un confronto anche troppo scontato, già presentato in un precedente intervento, proprio per sottolineare questa divergenza nei modi, nelle vedute, nelle sensibilità, perché in linea di massima le caratteristiche che abbiamo elencato fino a questo momento coincidono con la realtà, con una realtà però tagliata molto grossa delle due diverse scuole, perché è anche vero che nessuna delle due scuole rimane completamente impermeabile alle proposte e alle novità degli altri. Noi abbiamo già parlato dei contatti tra Duccio, Cimabue e Giotto, abbiamo visto per esempio Duccio lavorare per una committenza fiorentina nella Madonna Rucella e che vedete alla destra di questa slide, abbiamo visto l'ascendente che il lavoro di Cimabue aveva avuto sul suo lavoro. Ora, se voi guardate le date in questa slide, potreste farvi coinvolgere in un errore, cioè il fatto che la Madonna del Louvre sia posteriore a quella dei Laudesi non ci deve trarre in errore. Si tratta ovviamente di un modello che Cimabue aveva elaborato ben prima e che continua a ripetere nel corso della sua vita, come in questo caso anche nel corso degli anni a venire, è il modello meglio conservato, quindi è quello che noi presentiamo. Ed è evidente l'identità di vedute, il fatto che Duccio riprende diciamo in qualche modo il modello di Cimabue e non viceversa. Abbiamo visto Duccio tra l'altro inserire brani di realtà all'interno della sua opera, per esempio si può ricordare il realismo estremo, sia formale che espressivo, dei dettagli che abbiamo rilevato, per esempio nelle storie neotestamentarie dipinte sul verso della grande maestà del Duomo di Siena, le suppelletti, le pietanze dell'ultima scena che vedete al centro di questa slide, gli elementi architettonici, gli animali, gli alberi, persino i gesti dei personaggi dell'entrata di Cristo a Gerusalemme di cui abbiamo parlato in una lezione specifica, ma anche la stessa indagine psicologica che Duccio opera con questo incrocio di sguardi tra la Vergine, il bambino e gli angeli nella scena principale dipinta sulla parte frontale del grande Dossale, ci ricordano modalità simili operate prima alla Cimabue e soprattutto da Giotto. Tutti i dettagli di verità, compresi certi elementi spaziali che risentono in maniera chiara e evidente di quella che abbiamo definito la rivoluzione giottisca e che non sarebbero spiegabili altrimenti, che però funzionano solo se presi singolarmente, mostrando al contempo un disinteresse di fondo per la sintesi compositiva, per il funzionamento spaziale delle opere prese nella loro interezza, quindi abbiamo dei dettagli di realtà, ma poi l'opera completa nel suo complesso, complessivamente appunto non si interessa di questa realtà spaziale, volumetrica, sentimentale, descrittiva. E abbiamo detto, proprio a questo proposito, che in questo senso l'interesse per la preziosità del dettaglio, per la minuzia del particolare, per la grazia e l'eleganza degli effetti, tendono effettivamente a prevalere dove invece all'opposto l'arte fiorentina inclinava decisamente verso scelte più rigorose, forse meno estetizzanti, ma sicuramente più coerenti. E quindi da questo punto di vista questa preferenza, questo inclinare dell'arte senese verso la grazia, verso la ricchezza, verso il particolare, sono assolutamente evidenti. E questo ragionamento, ovvero il riconoscimento di un contatto chiaro e indiscutibile fra i due diversi versanti pittorici della Toscana, un contatto che esiste tra i due versanti pittorici della Toscana, che in qualche modo identificano i versanti pittorici dell'Italia intera del tempo, potremmo quasi dire, d'Europa, giustifica in modo indiscutibile questo contatto l'affiorare di certi elementi di realtà di matrice fiorentina all'interno della grande arte senese a partire da Duccio. Dettagli che non cambiano la situazione di fondo, se è vero come è vero, anche semplificando un ragionamento che sicuramente dovrebbe essere più complesso di come lo presentiamo, però comunque è vero che l'arte senese prelude al gotico internazionale, mentre la ricerca fiorentina condurrà direttamente verso il Rinascimento. Quindi una serie di punti di contatto evidenti che però non cambiano l'esito della strada che i due diversi versanti dell'arte toscana, e volendo italiana ed europea, prendono. E dopo Duccio, e in parte contemporaneamente al lavoro di quest'ultimo, come vedremo, Duccio intenta a svecchiare la tradizione bizantina imperante a Siena, come già Cimabue aveva fatto e stava facendo a Firenze, Cimabue aveva una quindicina di anni più di Duccio, appunto aveva fatto a Firenze, e insieme a questo lavoro di svecchiamento ci si imbatte allora in quello che diventerà il protagonista vero e proprio della scena cittadina, ossia Simone Martini, che con i Lorenzetti, Pietro e Ambrosio andrà a costituire il vertice di quella cultura figurativa, quella senese, così vicina a Firenze, anche proprio da un punto di vista proprio geografico, potremmo dire di chilometri, eppure così lontana, così legata comunque alla Francia, alla quale volgerà sempre lo sguardo, appunto la cultura cortese, la cultura preziosa che si svilupperà a Siena, sempre con uno sguardo verso la Francia. Simone è un artista cosmopolita, si forma la fonte di molteplici influenze, la cui grandezza, la cui ampiezza di contatti, è ben testimoniata, per esempio, dal rapporto che tra gli altri ebbe con Petrarca, il quale, per esempio, grato per il ritratto purtroppo andato perduto della sua laurea, nella sua laura, e di cui il poeta scrisse l'opera, queste sono proprio le parole di Petrarca, l'opera fu ben di quelle che in cielo si possono immaginare, non qui tra noi, quindi esaltando la bellezza di quest'opera, citò appunto Simone Martini per ben due volte nel suo canzoliere. Però, qui avete una delle citazioni, una dei sonetti in cui compare la figura di Simone Martini, ma certo il mio Simone fu in paradiso, onde questa gentil donna si parte, Ivi la vide e la ritrasse in carte per far fede qua giù del suo bel viso. Quindi, diciamo, Simone ha la capacità di immaginare Laura come se fosse andato in paradiso a trovarla e a venirla per poterla dipingere. Proviamo a partire, dicevo, dall'inizio, dicendo che la data di nascita di Simone Martini, il 1284, si resume tanto per cambiare da Vasari, che nelle sue vite riporta l'iscrizione che compariva sulla sepoltura del pittore e che ne dava la morte a 60 anni, mesi due, giorni tre. Morte della quale, questo sì, abbiamo testimonianza documentata al 1344, quindi a partire dal 1344, risalendo in questi 60 anni, possiamo arrivare alla data di nascita, che si suppone essere appunto il 1284. Si suppone che Simone sia nato a Siena, o più probabilmente a San Gimignano, il che giustificherebbe il precoce rapporto con Memmo di Filippuccio, che vedete in questa slide, artista raffinato dalla fertile vena discrittiva, pictor civicus di quella città, quindi il pittore cittadino, il pittore più importante della città, di cui successivamente Simone avrebbe sposato la figlia e quei figli del quale avrebbe a lungo collaborato. Chiaramente si ricorderà l'annunciazione, uno dei capolavori assoluti, oggi agli uffizi, capolavoro della maturità simoniana, portato a termine a quattro mani, proprio col figlio di Memmo di Filippuccio, ossia Lippo Memmi. Della formazione di Simone Martini si sa poco nulla, fatto abbastanza comune per gli artisti di questo periodo, ma certi procedimenti tecnici, certi echi della tradizione bizantina, per esempio la presenza delle lumeggiature d'oro, soprattutto la ripetizione di certe fisionomie, di certi anchieggiamenti, di certi modi di presentare le figure che si rilevano agli esordi dell'opera di Simone, come possiamo vedere per esempio in questo confronto fra la Madonna di Crevole e la Madonna col bambino della Pinacoteca di Siena, collocano Simone con una certa sicurezza nell'ambito di Duccio, forse proprio come garzone della sua bottega. Sappiamo però che l'artista Simone Martini, che a sua volta sarebbe diventato pictor civicus della città di Siena, non di San Gimignano, quindi ben più importante, nella sua maturità, non si dedica all'inizio della sua carriera solo alla grande pittura a fresco e su tavola, invece spazia nella decorazione di standardi, nelle arti suntuarie, nella miniatura, nell'oreficeria, nell'intarzioligno, nello smalto, addirittura nella vetropittura. Quindi un artista eclettico, versato in molte tecniche, molte tecniche diverse, e curioso, soprattutto aperto alle più varie esperienze espressive. La grande maestà laica della Sala del Consiglio, che poi sarà conosciuta col nome di Sala del Mappamondo, uno dei massimi capolavori del 300 italiano, ma potremmo dire del 300 europeo, è la prima opera datata. Ovviamente non è la prima opera realizzata dall'artista, però è la prima opera della quale abbiamo traccia, è la prima opera datata, completata nel 1315 da Simone, che la realizzò, almeno stando ai rilievi operati nel corso dell'ultimo restauro, forse a partire già dal 1312, quando era già comunque una trentina d'anni, quindi un artista già maturo, del quale non conosciamo, o meglio, siamo riusciti a ricostruire il corpus delle opere precedenti, ma solo per via stilistica non abbiamo documenti. Un'opera, si diceva, realizzata tra il 12 e il 15, con un significativo intervallo tra il 13 e il 14, nel quale Simone si allontana da Siena per andare ad Assisi a decorare la cappella di San Martino, appunto nella Basilica Inferiore di San Francesco. Intervallo significativo, perché come si vedrà, proprio la frequentazione della Basilica Assisiate, lo studio del suo straordinario apparato decorativo, ricordo che ad Assisi lavorava Giotto, aveva lavorato Cimabue, avevano lavorato i protagonisti della scuola romana e tanti artisti transalpini, e questa visione di così tanti modi pittorici così aggiornati impresse evidentemente un'accelerazione, quasi una crescita forzata nei modi del pittore senese, accelerazione che si può rilevare chiaramente proprio nel passaggio tra il primo e il secondo intervento di Simone per il completamento della Grande Maestà, con un deciso cambio di modi verso una sicurezza spaziale più consapevole e con la ridipintura integrale di alcune parti tra le quali vi mostro i volti della Madonna e del Bambino alla destra di questa slide nel particolare, che si presentano più dolci, più espressivi, sicuramente più moderni di quelli che aveva completato nel corso della prima fase di lavorazione, quindi fino, diciamo, al 1313. Bisognerà inoltre ricordare che Simone interverrà nuovamente nel 1321, quindi dopo qualche anno, un intervento commissionato direttamente dal governo De Nove per racconciare, dicono i documenti, le parti del dipinto che evidentemente si erano deteriorate, forse per le cattive condizioni della parete sulla quale l'affresco era stato eseguito. Di certo, quindi, oltre ai modelli ducceschi della formazione, fondamentali nella crescita di Simone erano state proprio la rivoluzione di Giotto, le idee rivoluzionari di Giotto, i modi di questo genio fiorentino che erano stati acquisiti, almeno in prima battuta, forse proprio attraverso Memo di Filippuccio, che parte della critica suppone aver lavorato proprio al fianco di Giotto negli affreschi essesiati, di cui abbiamo verificato la vena narrativa, la facilità descrittiva, e pittore col quale in gioventù Simone collabora, non si potrà neppure tenere troppo in conto le parole di Vasari, parole di Vasari che sono venate di un dispregio per Simone che si giustifica solo con la storica contrapposizione tra Sena e Firenze e con la volontà del grande aretino, del grande storico aretino, di far prevalere in maniera chiara e evidente la scuola di Giotto e quindi Firenze sui modi del pittore senese, quando afferma che i due sonetti dedicate a lui dal Petrarca, vi leggo direttamente le parole di Vasari, hanno dato più fama alla povera vita di maestro Simone che non hanno fatto né faranno mai tutte le opere sue, in una diminuzio dell'importanza del corpus simoniano che fa sorridere, fa sorridere per la marcata partigianeria delle intenzioni e certamente a differenza di quanto afferma Vasari per i soliti motivi di campanile Simone non fu allievo di Giotto, ma noi abbiamo già visto Vasari sostenere per esempio che Torriti fu, era stato allievo di Giotto, c'è questa volontà di porre Giotto su un piedistallo e quindi di diminuire l'importanza delle persone che gli corrono intorno. D'altra parte questo strano modo apparentemente poco obiettivo di mescolare il campanilismo e la lettura critica, strano almeno per il nostro modo di pensare la ricerca scientifica perché per noi la ricerca scientifica deve essere imparziale quanto più possibile oggettiva, in realtà è molto comune almeno fino a tutto l'Ottocento e lo troviamo per esempio operante, perfettamente ribaltato nelle lettere sanesi di Guglielmo della Valle. Guglielmo della Valle che è più attratto verso la scuola senese, che non verso quella fiorentina e che quindi esalta la scuola senese e quindi verso la fine del Settecento, appunto paragonando Simone Giotto, afferma che quest'ultimo è miglior meccanico che poeta e ci vuole un certo coraggio per stabilire che Giotto è miglior meccanico che poeta, sottolineando tra l'altro un che di rigido, di naturale, di bloccato. Allora della Valle parla, parlando delle figure di Giotto, parla di figure che sporgono le teste dalle tavole dorate o dai muri una sopra l'altra quasi vi stiano fitte con gli uncini o coi chiodi. Mentre all'opposto, nell'opera di Simone, sempre della Valle, rileva figure meglio opposte, più naturali, più sciolte e panneggiate più conformemente al vero. In un contrasto dove risulta vincente Simone, quindi una superiorità che almeno in termini così spinti noi non riusciamo assolutamente a vedere, anzi, resta il fatto che proprio a Giotto Simone deve moltissimo, cioè sarà Simone a prendere tanto da Giotto, perché proprio dall'esempio del grande fiorentino riprende una coerenza spaziale, basti nell'opera appunto che stiamo guardando, la trovata della grande tenda da torneo, che sicuramente è un'idea cortese simoniana, ma che è collocata con l'esattezza di una prospettiva empirica di matrice fiorentina che deriva chiaramente dall'osservazione e dalla rielaborazione dei modelli giotteschi. Ma anche un senso dell'umanità, delle figure, dei gesti, negli atteggiamenti e più in generale una coerenza compositiva che hanno una matrice giottesca e che altrimenti sarebbero inspiegabili in un artista impregnato di quel raffinato gusto gotico d'oltrarpe, preziosissimo, un po' superficiale, come si diceva, che imperava a Siena e che comunque si continua a rilevare nell'opera, nella ricchezza della cornice, nella preziosità delle vesti, nella complicazione degli elementi decorativi, nella dolcezza degli incarnati e del colore, nel gusto orafo delle punzonature, che poi ritroveremo in molti altri elementi che avremo modo di osservare più nel dettaglio. Quindi è evidente che l'elemento giottesco è fondamentale, è evidente anche che Simone rimane legato alla sua tradizione, che è quella senese di ispirazione francese. Ecco, per ora accontentiamoci quindi di rilevare, come in questo contesto, per esempio, oltre a Duccio, a Memmo di Filippuccio e a Giotto, si debba tener conto anche di altri artisti, per esempio della potenza espressiva dell'opera di Giovanni Pisano, contemporaneo di Giotto e di Simone, attivo a Siena fino al 1296, e anche successivamente, come vediamo, capace di rinnovare con forza il linguaggio plastico del suo tempo. Lo vediamo perfettamente in questi frammenti ricomposti del celebre monumento funebre di Margherita di Brabante, scultore e latore di un messaggio di libertà e di vigore compositiva e descrittiva che supera i garbati modi classici del padre Nicola Pisano o del contemporaneo Arnolfo di Cambio e spinge nella direzione di una figurazione diversa, una figurazione più eloquente, più intensa, più incisiva, a tratti addirittura gesticolante, più patetica, più ricca appunto di pathos. Queste sono dunque le componenti fondamentali nella formazione di Simone Martini. L'esempio bizantino riformato di Duccio, la classicità misurata di Nicola, ma soprattutto la violenta gestualità del figlio di Nicola Giovanni Pisano, la preziosa eleganza del gotico transalpino, sempre presente, diciamo, nella tradizione senese, sia una città di strada che si sviluppa lungo la francigena, ne abbiamo parlato in altre lezioni, ma poi anche gli elementi di verità spaziale ed emozionale tipici della rivoluzione giottesca, elementi che, anziché sostituirsi l'uno all'altro, si fondono a costruire un linguaggio nuovo che non abbandona la ricchezza per la realtà ma neppure rinuncia alla realtà per la ricchezza e quindi presenta, diciamo, una commistione di tutta una serie di esempi e di fascinazioni diverse. Il linguaggio che inizieremo ad analizzare nella prossima lezione, proprio a partire da questa grande opera che vedete nella slide, La Maestà del Palazzo Pubblico di Siena, grande opera d'esordio di Simone, d'esordio almeno come grande pittore civico, visto che, come abbiamo detto, Simone quando dipinge quest'opera ha già più di 30 anni, quindi sicuramente aveva appunto già un nome, una fame, aveva già realizzato opere importanti, ma questa in particolare è un'opera capitale per la comprensione dello sviluppo dell'alternativa senese rispetto ai modi della pittura fiorentina e giottesca in specie, diciamo versante senese, che cominceremo ad analizzare dalla prossima lezione.